Saisar prova ad andare dentro, l'imbucata e il gol, il gol del Girona, Girona in vantaggio, il gol di Saisar. Barcellona troppo morbido nel cuore dell'area di rigora. Il Girona è avanti, casca Saisar, edizione regolare perché a tenere tutto in gioco c'è... Sicuramente più lucido, più freddo di Benja, il suo compagno di reparto.